Per noi il Leano Cetrullo si è stato fondamentale questa sera per questa partita. Come ti sei sentito dopo l'accaduto? Beh, quando si vince è sempre una bella sensazione. Ho dato tutto me stesso perché avevo visto un po' le facce basse, un po' le teste basse e serviva un apporto forte per trascinare la squadra. Ho urlato, ho attaccato quello che potevo, quando potevo e dove potevo, sempre al massimo. E sono contento per la vittoria di squadra. Visto questa partita fantastica che c'è stata questa sera, come pensi saranno i prossimi turni? Che ti dici, le tue impressioni? Beh, noi veniamo da una serie negativa, secondo me questa è la scintilla per cominciare a crescere come gruppo e come squadra. Simone, un ritorno da protagonista nella tua Roma. Allora, dici le tue impressioni, come ti sei sentito? Allora, ti dico, sinceramente è stata una bella emozione ritornare al palazzetto, al palatiziano, insomma, che è stata per me un luogo in cui sono cresciuto. Le sensazioni sono state diverse. Prima della partita ero molto deso, perché comunque per me è sempre una grande emozione tornare a Roma. E soprattutto è sempre più bello vincere a Roma. Per me è sempre più bello vincere a Roma.